Ciao a tutti, sono il vostro Alessandro. Oggi vi faccio vedere come siliconare tra il muro e lo zoccolino. Come potete vedere qui ho messo il nastro sullo zoccolino rimanendo staccato dallo zoccolino quei 2-3 mm in modo che nell'ultima mano, nella mano finale, prima di tutto metto il silicone acrilico verniciabile. Faccio un filettino piccolo come potete vedere e con il dito lo schiaccio verso lo zoccolino non verso il muro altrimenti si fa la riga in alto. Poi si tinteggia, si toglie il nastro. Abbiamo finito la seconda mano dalla tinta che abbiamo usato per la cameretta ed ora farò vedere come esce con il silicone. Non c'è più la fessura. Mi raccomando, cliccate sul logo. Ciao a tutti.